In giro per la Fiera siamo allo stand della Lepre Edizioni in compagnia di Marcantonio Lucidi che ha pubblicato il vascello delle meraviglie Viaggio nel teatro italiano contemporaneo. Io sono molto curiosa perché sono un'appassionata di teatro che ha dovuto un po' abbandonare il teatro. Che cosa significa raccontare il teatro contemporaneo e renderlo accessibile a tutti? Significa tentare di costruire una storia del teatro italiano degli ultimi 50 anni attraverso anche quello che ho visto e cercare di lavorare su un'idea di saggio raccontato ossia non fare una cosa complessa ma lavorare sullo stile letterario per poter rendere una materia complessa semplice, possibile avendo come idea che il tuo lettore dovrebbe essere lo stesso spettatore degli spettacoli e quindi cercando di avere una comunicazione diciamo così teatrale ma anche visionaria in un certo modo e i 50 anni sono di teatro, non li ho visti tutti perché ne ho poco più di 50 quindi però sono tutto quello che ha preceduto e condizionato ciò che io personalmente ho visto e cioè Streller, Ronconi, la sperimentazione romana la classicità che è stata fatta in questi ultimi anni la ricerca, tutto quello che è successo che è estremamente interessante poi da vedere per il semplice motivo che il Novecento è stato il secolo fondamentale della ricostruzione di un modo di fare teatro o della costruzione di un nuovo modo di fare teatro quanto a quello che diceva lei per quanto riguarda il progetto di andare in scena questo è successo a molti e questo è un peccato nel senso che molti che non sono riusciti poi ad avere una carriera di artista sono spesso, a me è capitato di vederlo, i migliori perché uno dei problemi del teatro italiano è stato di avere sovente espulso dalle scene migliori per delle logiche che non erano di tipo artistico ma di tipo di potere praticamente, spesso questo libro io l'ho trovato molto interessante a parte che me lo giro sulle mani così allegramente ma anche perché ha la capacità secondo me di raccontare anche la magia del teatro cioè il teatro è un posto magico la gente si scorda questo, pensa che il teatro sia ad esempio andare alla prima della scala vestiti bene in un certo modo invece il teatro è tutto quello che accade dietro le quinte allora il teatro, le funzioni del teatro sono alle strette sono due la prima è quella di parlare alla polis cioè parlare agli uomini di ciò che gli uomini fanno della città e questo è diciamo lo statuto fondamentale del teatro poi c'è uno statuto diciamo così più sottile meno evidente ma altrettanto importante che è quello di rendere visibile l'invisibile e di rendere anche invisibile il visibile è questo il teatro non è una riproduzione della realtà è una metafora della realtà ed è filosofia in azione da questo punto di vista è semplicemente straordinario poi l'altro aspetto del tutto ovvio è che dentro il fatto teatrale ci sono tutte le arti c'è la scenografia, la pittura, la scultura c'è tutto c'è la visionarietà, la musica, l'ascolto e naturalmente l'arte dell'attore che è il punto centrale diciamo è questo poi il vascello delle meraviglie si chiama così il vascello delle meraviglie perché il teatro è una scatola del meraviglioso nel quale dentro alla quale si cela sostanzialmente la divinità o quello che noi pensiamo sia la divinità l'idea visionaria che ci facciamo della divinità torniamo a teatro ringraziamo moltissimo Marco Antonio Lucidi il suo libro il vascello delle meraviglie viaggio nel teatro italiano contemporaneo della Lepre Edizioni lo lasciamo scappare perché sappiamo che ha la presentazione in sala Polaris aspettiamo proprio un attore che come tutti gli attori è in ritardo salvo quando va in scena grazie mille arrivederci